Carl prono con due manubri, prono perché abbiamo il petto appoggiato sulla panca, quindi siamo in atteggiamento prono e possiamo andare a porre la panchetta all'incirca sui 45, 40, 35, 50 gradi va bene, più o meno a questa inclinazione va benissimo, è un esercizio anche questo in concentrazione, quindi andiamo a prendere i manubri, ci posizioniamo sulla panchetta, quindi vi appoggiate comodi, braccia perpendicolare, anche in questo caso si tende generalmente a tenere la presa già aperta, quindi supinata senza fare extra rotazioni durante il movimento, quindi da questa posizione facciamo questo movimento, vengo giù e poi vengo su, anche qua cercate di non arretrare il gomito, il gomito rimane fermo o leggermente avanti per lavorare in maniera ottimale con i bicipiti, questo è veramente un bellissimo esercizio in concentrazione, se lavorate bene è fantastico il lavoro che vi può dare sulle braccia il Carl in concentrazione, prono sulla panca inclinata, veramente un bell'esercizio, mettetelo in pratica controllando il movimento e sono sicuro che vi porterà grandi risultati.